Adesso la partita, siamo 4-3 per Real Caracol 1, adesso il Busca, ecco il quartiere, rinvia il difensore del Busca, Antonio Bellancio per Nato, peccato, il quartiere rinvia con le mani, è andato fuori. Vediamo che c'è molto pubblico, vai Andrea, dai Andrea, su, dai, 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 Davide, peccato, la partita su, ok, dice l'arbitro, Mariano è il nostro corso, bene, bene, ok, dai, dai, teniamo duro, 4-3 per Real Caracol 1, Andrea, 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 Provare già, provare già, provare già, provare già, passare, la vedetta è, paro, stiamo.